Allora, dalla regia di Versailles a Madrid, all'Escoriale, con un brano di Antonio de Cavertoni, che è il musicista per il letto di Carlo V, in un'altra epoca, un'altra nazione, un modo di suonare che ha una tenenza più che purifiuto con le guitare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.